in piena facoltà egregio presidente le scrivo la presente che spero leggerà la cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì ma io non sono qui egregio presidente per ammazzar la gente più o meno come me io non ce l'ho con lei si è detto per inciso ma sento che ho deciso e che diserterò a 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